La partecipazione in senso lato e più ampio del termine, il coinvolgimento concreto delle persone passa fondamentalmente per una disponibilità reciproca e la disponibilità reciproca identifica sicuramente un'esigenza, un linguaggio che sia la portata di tutti. Possiamo porci da esperti per chi magari deve ancora acquisire consapevolezza e quindi escluderlo da un confronto, da un attivo e dall'altra invece bisogna cercare di acquisire, di imparire di chi abbiamo gatti per poter progredire e avere un contributo reale da mettere a disposizione del lavoro che stiamo facendo.